Tre mesi tutti da leggere e gustare per i più piccoli. Apre a Sarmede la 33esima edizione della Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia. Al centro della tradizionale rassegna dedicata ai piccini, nell'anno dell'Expo finisce il cibo, raccontato e illustrato. Storie e immagini del mangiare da tutto il mondo, anche con la presentazione di un volume sulle storie made in Italy. Tratta di 10 fiabe sul cibo italiane. C'è anche la fiaba che tratta di una fiaba del Veneto, che è le Fritelle del Barbazucon, che è una fiaba tradizionale molto conosciuta e che soprattutto a quelli della mia generazione, ma anche i più giovani, è densa di ricordi e anche di piccole paure. Cento gli appuntamenti in calendario, 30 gli illustratori in arrivo da ogni angolo del mondo. Un'iniziativa rivolta ai più piccoli per far diventare grande Sarmede. Siamo molto impegnati nel portare a Sarmede cultura ed innovazione. La nostra è una piccola comunità di poco più di 3.000 abitanti, che cerchiamo di amalgamare e di far conoscere all'internazionalità proprio attraverso l'opera rivolta ai bambini. L'edizione numero 33, ancora prima del Via, già fa registrare numeri da record, tra pernotazioni, contatti e richieste in informazioni. Un volano per il turismo e la cultura. Il nostro obiettivo è offrire al grande pubblico la maggiore proposta di libri che c'è a livello nazionale e internazionale. Per cui dal nostro punto di vista abbiamo questo grande desiderio di offrire al pubblico la grande varietà di libri. Incontri, letture, musica, seminari per i genitori e performance per i bambini. Un'offerta ricchissima che non mancherà di attirare, come accade da anni, visitatori da ogni angolo del mondo. In tempi di tagliare le risorse, investire sulla cultura è spesso una scommessa. A Sarmede, invece, è una certezza. Investire nell'arte, investire in cultura, come è la mostra di Sarmede, è un vantaggio economico importante per tutto il paese. Perché rappresenta migrazioni di turisti, persone che vengono qui, che consumano, che dormono. Un aspetto sociale, perché di confronto fra varie culture. E credo che queste cose qua, alla lunga, abbiano un ritorno economico importante. Grazie a tutti.